Una volta eliminato l'impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, è sicuramente la verità. Questa frase è una frase importante perché è stata pronunciata da un grande scrittore morto 90 anni fa, esattamente il 7 luglio di 1930. Perché lo ricordo? Lo ricordo perché, oltre che grande scrittore, è stato a mio giudizio anche uno dei più grandi soggettisti cinematografici in assoluto. Dalle sue opere sono state tratte una serie infinita di film. Il suo nome è Sir Arthur Conan Doyle, il papà di Sherlock Holmes, una creatura straordinariamente cinematografica fin dalla sua origine. Pensate che da quando è nato, nel 1887 al 1929, è stato già protagonista di 105 cortometraggi, poi è stato protagonista di 80 film e di 66 fra serie televisive e film tv. Quindi veramente una figura mitica su cui si è creato l'incoscio, si è plasmato l'incoscio collettivo. È chiaramente per l'autonomasia l'investigatore. Come dicevo, Sherlock Holmes è un mito che ha ispirato tutti i successivi protagonisti delle storie poliziesche. Ha ispirato sicuramente Hercule Poirot di Agatha Christie, ha ispirato Philo Vance, ha ispirato Nero Wolf, ma ha ispirato anche The Mentalist, le serie televisive, ha ispirato anche Dylan Dog, ha ispirato persino i detective del nome della Rosa, il frate francescano che si chiama Guglielmo di Baskerville, un precedente riferimento di Umberto Eco a una delle opere proprio di Conan Doyle. Il romanzo in cui si presenta la figura di Sherlock Holmes è quello che viene definito il romanzo poliziesco. Il romanzo poliziesco ha una lunga tradizione. Il primo esempio di romanzo poliziesco che abbiamo è uno scritto del 1500 di Cristoforo Armeno, uno scrittore libanese che stava a Venezia e che tradusse il famoso pellegrinaggio dei tre principi, dei figli del re Serendipo, che tra l'altro con la parola Serendipiti ha ispirato anche Horace Walpole, il famoso autore del romanzo gotico che era il castello di Otranto. Dopo Armeno, un altro precedente letterario che possiamo trovare è Voltaire in Zadik, una delle sue opere filosofiche ironiche corrosive in cui di nuovo c'è un esempio di racconto poliziesco. Ci sono anche i racconti del giudice Bao, una serie di racconti cinesi molto interessanti nel 1200 che sono stati poi tradotti e sono arrivati in Europa nell'800. Tutti questi personaggi inventati possono essere concentrati anche in una figura vera ed è la figura di un criminale francese che si chiamava François Vidocq che ha avuto una vita straordinaria. È stato un criminale, ladro, imprigionato, evaso tre o quattro volte e addirittura dopo che era evaso l'ultima volta, nel 1811 si è presentato alla polizia francese e ha chiesto di fare l'infiltrato. Cioè ha detto che conosco tutti i ladri di Parigi e se volete mi infiltro fra di loro e ve li denuncio e vi aiuto. Addirittura la polizia francese gli ha organizzato una squadra chiamata la Surete, la famosa squadra anticrimine, cioè antelittina, che serviva proprio a dare la caccia ai delinquenti. Nel 1832-33 Vidocq si è permesso anche di andarsene in pensione e di aprire un'agenzia di investigazioni. Vidocq ha quasi sicuramente ispirato Edgar Allan Poe nella prima vera e propria storia poliziesca con un detective, che è il famoso Delitti della via Morgue, tre racconti, in cui il protagonista principale è Auguste Dupin, colui che, come accadrà poi per Sherlock Holmes, le avventure di Auguste Dupin sono raccontate da un amico, esattamente si ripete il modulo di Sherlock Holmes e di Watson, e Auguste Dupin è uno freddo, calcolatore, logico, attento, preciso, cioè esattamente è il prototipo di Sherlock Holmes. Addirittura, nel primo racconto, quando Watson chiede a Sherlock Holmes se lui ha mai sentito parlare di Dupin, Sherlock Holmes ripete che lui è molto meglio di Dupin, quindi addirittura la citazione è proprio precisa, perfetta. La prima pubblicazione è del 1887, ma precedentemente chi era Arthur Conan Doyle? Arthur Conan Doyle nasce nel 1859 in Scozia, si occupa, studia, è un cattolico, quindi questo è molto interessante per il discorso sul castigo e la pena, che fa parte, non a caso, anche Hitchcock era cattolico, cioè ogni volta c'è questa attenzione sul male e ogni volta che c'è il male, ogni volta che c'è un demone, c'è un angelo buono, il detective, che risolve il crimine. Quindi è un meccanismo molto interessante e molto suggestivo a livello psicoanalitico. Una cosa importante è che Conan Doyle è andato all'università e ha studiato medicina. ha avuto la fortuna di avere come insegnanti due grandi chirurghi, uno che si chiamava Joseph Bell ed era famoso per le sue capacità diagnostiche. Addirittura era anche in grado di riconoscere la professione dei propri pazienti o la provenienza dei propri pazienti a colpo d'occhio. Tant'è vero che una volta stupì l'intera aula universitaria quando, dovendo fare la diagnosi a una persona che si era presentata e che lui la faceva pubblica come forma di insegnamento, descrisse la professione e la provenienza della persona che si trovava davanti a lui. Disse che era un sotto ufficiale delle truppe coloniali era vestito in borghese, un sotto ufficiale delle truppe coloniali che proveniva da Ribemura. Nel momento in cui tutti chiesero la spiegazione, lui spiegò che questo fatto se ne era accorto perché aveva sulle scarpe delle tracce di terra rossa che era tipico delle truppe coloniali perché si allenavano e facevano le manovre in una zona di Londra in cui la terra era rossa e il fatto che si muovesse in un certo modo era un modo tipico di un militare e il fatto che venisse nelle Bermude era dovuto al fatto che aveva un'eczema dovuto a una malattia della pelle tipica di coloro che abitava nelle Bermude. Come vedete, ci sono delle caratteristiche in questo professore che noi ritroveremo in questa capacità di analisi in Sherlock Holmes. L'altro insegnante di Conan Doyle era il famoso Joseph Lister, un grandissimo, straordinario chirurgo che è stato il padre della sepsi, cioè è stato il primo che per la prima volta ha disinfettato i ferri chirurgici e ha disinfettato completamente la sala operatoria perché fino allora si operava lavando con l'acqua soltanto dal sangue i tavoli e gli strumenti. Quindi è il primo che ha scoperto l'applicazione dell'acido fenico e ha disinfettato tutto, quindi riducendo la mortalità. E anche questo attraverso l'osservazione avendo analizzato esattamente i decessi che avvenivano sulle persone operate con gli strumenti non disinfettati. Quindi Conan Doyle li ha presi da fatti sue e li ha trasferiti nel culto della logica dell'analisi di Sherlock Holmes, cioè analizzare perfettamente i dettagli e dai dettagli creare una deduzione logica che porta l'assassino. Nel 1887 il dottor Watson viene accolto come coinquilino in un appartamento dal 221 B di Baker Street. Baker Street è nella Westminster City, cioè il cuore di Londra, ed era una via molto elegante, e oggi è una strada di business ed è una strada particolare perché ci ha abitato H. G. Wells, quel famoso autore della macchina del tempo, e ci sono state durante l'ultima guerra la sede delle operazioni segreta delle operazioni speciali dello spionaggio inglese. Addirittura, siccome Baker Street era la via di Sherlock Holmes, questa sede erano chiamati i ragazzi di Baker Street, intendendo dire che erano i detective dello spionaggio. Ora, a Baker Street il dottor Watson viene raccolto in uno studio in rosso il primo romanzo, come ho detto, di Conan Doyle. Questa è una copia di una delle prime edizioni italiane ed è esattamente la copia dell'edizione inglese, rifatta in italiano. È una copia degli anni Cinquanta, ma la vera copia, la vera chicca, è una delle primissime copie italiane di Sherlock Holmes. Come vedete, non ha l'aspetto che noi conosciamo, perché l'aspetto che noi conosciamo è un signore distinto, elegante e preciso, esattamente come lo descrive Conan Doyle, cioè uno sguardo acuto e penetrante, il naso sottile e aquilino e il mento quadrato che indica energia. Ma questa immagine, che ci stupisce perché è così diversa, in realtà quella che noi conosciamo è un'immagine dovuta a un attore e comediografo americano che si chiamava Gillette, il quale insieme a Conan Doyle nel 1899 scrisse Sherlock Holmes una commedia che ha avuto uno straordinario successo. Pensate che Gillette ha recitato queste commedie per mille e trecento volte e lui dovendolo interpretare in teatro, quindi dovendolo togliere dalla pagina letteraria, ha dovuto chiaramente vestirlo e descriverlo. E quindi come lo ha vestito? Lo ha vestito con quel cappellino da caccia che si chiama Deer Stalker, sarebbe il cappino per la caccia ai sebi di quello che vanno dietro agli animali e quindi si può staccare e ricoprire le orecchie in caso di pioggia, l'invernous coat, cioè questo cappottone senza maniche con una mantellina chiamata pellegrina, tipico dell'epoca, e con una pipa calabash. Calabash è il nome di una zucca che tutti hanno conosciuto sicuramente, è una di quelle zucca a bottiglia, piccola sopra, rotonda, piccola e più grande sotto che vengono vuotate e sono usate per riempirle. Quindi ha questa forma così. Pensate che addirittura nella Nuova Guinea queste zucche vengono usate come astucci penici, cioè come una specie di mutanda. La pipa calabash ha un vantaggio, per i fumatori viene definito il fumo lento perché è fuori radica e dentro di schiuma. Quindi il fumo lento significa che invece di avere il cannello dritto che devi tirare spesso, con questa forma puoi tirare più lentamente e quindi dà l'idea di qualcuno che riflette e che pensa. Come vedete Gillette è stato straordinario che ha dato quell'immagine che poi diventa l'immagine iconica e classica di Sherlock Holmes. Dopo i 105 cortometraggi cominciano i veri e propri film. Dal 1939 al 1946 ci sono 14 film prodotti in Inghilterra, tutti interpretati da una delle figure mitiche come attore, ed è uno di quelli che ha iconizzato la figura e l'aspetto di Sherlock Holmes, ed è Basil Rathbone. Sono 14 film che vengono prodotti e che praticamente consigliano la fama del personaggio generale cinematografico. nel 1970 la vita privata di Sherlock Holmes, del grande Billy Wilder. Nel 1976 c'è un film molto interessante che è Sherlock Holmes soluzione al 7%. È un film particolare perché rivela in maniera ironica e suggestiva il vizio occulto di Sherlock Holmes, il quale era talmente frenetico nella sua attività intellettuale deduttiva e investigativa che nei momenti in cui non riusciva a investigare perché nessuno richiedeva la sua opera, lui entrava in depressione. Addirittura per sopravvivere a questa depressione si iniettava della cocaina. Si iniettava la cocaina al 5% che però il dottor Watson l'aveva diluita al 7%. E quindi c'è una famosa battuta una volta che dice che lei è schiavo della cocaina ma addirittura la prende al 5% e dice che non è vero, la prende al 7% perché lei me la diluisce sempre. Lui se ne è raccorta. Quindi in questo film addirittura il dottor Watson cerca di curare questa sua tossicodipendenza e questa sua depressione facendolo incontrare con addirittura Freud che è interpretato da uno straordinario anarchy. Quindi chiaramente è completamente fuori da che è solo ispirato a Conan Doyle però è molto ironico e molto suggestivo. Nel 79 c'è Assassino su commissione interpretato da Christopher Plummer e anche questo è diventato iconico, suggestivo e straordinario. Nel 85 c'è Sherlock Holmes e il dottor Watson prodotto anche da Spielberg in cui i due protagonisti sono adolescenti in college. Il film si chiama Piramide di paura ed è molto suggestiva. Questa angolazione è molto originale. Poi c'è un film comico con Michael Caine e Ben Kisley che si chiama Senza indizio in cui praticamente c'è una presa in giro di Sherlock Holmes e delle sue capacità investigative. Nel 2004 c'è un film particolare, un film per la TV ma lo voglio citare perché è particolare e interpretato da Rupert Everett, molto dandy e molto snob, un esasperato Sherlock Holmes intitolato Sherlock Holmes e il mistero della calza di seta. Nel 2009 c'è una rivoluzione. Purtroppo è morto Ennio Morricone, il grande Ennio Morricone, ed io voglio ricordarlo, per cui l'aneddoto che racconterò oggi riguarda proprio Ennio. Ennio ha fatto le musiche per tre film che ho scritto e quindi il mio ricordo nei suoi confronti è particolarmente affettuoso e pieno di stima. La prima volta che l'ho conosciuto è stato per il film Eat It. Il produttore, Zaccariello, mi portò a conoscerlo e siccome il film era un po' assurdo e fuori schema, era un film del 68, parlava di ecologia, parlava di una storia grottesca e incredibile, quando conobbi Ennio Morricone rimasi all'aspetto un po' deluso perché Ennio era molto formale, con questi occhiali e con questa sua aria per bene sembrava un ragioniere piuttosto che un maestro di musica e soprattutto questo genio musicale che si è rivelato. Ma rimasi colpito dai suoi occhi, aveva dietro le lenti gli occhi splendenti e acutissimi e questo mi fecero capire che aveva una luce dentro, qualcosa di particolare. e infatti lo accettai subito, lui fece questa musica assolutamente deliziosa, andammo molto d'accordo. E quindi quando lo riproposi a Manolo Bolognini quando ci fu il film con Kirk Douglas, un uomo da rispettare, Michele Lupo già lo conosceva e quindi lo accolse molto volentieri, quindi ci vediamo di nuovo. E poi quando scrissi il film Mio caro assassino diretto a Tonino Valeri, in cui ero anche aiuto regista, proposi a Tonino proprio Ennio Moricone. Ennio fu felice di incontrarlo, di conoscerci e quindi molto carinamente seguì non tanto come aiuto regista quanto come sceneggiatore Tonino Valeri durante la musica che veniva messa al film nella sala della Fono Roma. Chiaramente io ero il più giovane di tutti ed ero trattato con una forma di affetto come due camerati più grandi che trattano il soldatino alle prime armi. E quindi quando mi chiesero se mi piaceva la musica o se è Ennio mi piace, però io su Mio caro assassino siccome si trattava di una bambina che veniva rapita e quindi c'era un giallo, vorrei che fosse macabro e allegro nello stesso tempo. Cioè macabro perché il film è un film di suspense tragico, però c'è una bambina, quindi vorrei che ci fosse un plin-plin, un plin-plin giocoso all'interno della musica. Devo dire che sia Ennio Moricone che Tonino Valeri con molta pazienza nella sala della Fono Roma parlavano fra di loro, Ennio uscì e andò in sala perché allora si registrava con tutta l'orchestra di 50 elementi nella sala grande della Fono Roma che si trovava nei palazzi di Piazzale Framinio. Si trovava addirittura nello stesso palazzo in cui aveva abitato Trilussa, quindi questo antico palazzo suggestivo che stava proprio nel centro di Roma. e questa grande sala che c'era con 50 orchestrali diretti da Bruno Nicolai perché il direttore d'orchestra di Ennio Moricone era Bruno Nicolai. Allora Ennio è uscito dalla saletta di super regia quella con la vetrata aperta sulla sala, è andato lì, ha parlato con Bruno Nicolai, poi gli orchestrali sono messi d'accordo e hanno di nuovo rifatto il motivo, che era una specie di carillon che io volevo macabro ma anche gioioso. Quindi hanno rifatto questa musica e poi Ennio si è voltato e mi ha detto che va bene Roberto? Sì, va bene, però quel plin plin lo vorrei ancora più stridente. Scusate, ma io ritengo che sia così. Allora Ennio con molta pazienza ha riparlato di nuovo con Bruno Nicolai e si sono rimessi d'accordo, l'orchestra ha riseguito il pezzo, Ennio si è girato, mi ha guardato e mi ha detto allora Roberto? Io ho detto sì, però quella e tutta l'orchestra ha fatto. Sì, perché io ho detto ah sì, però vorrei ancora e tutta l'orchestra diretta da Ennio Moricone a un gesto di Ennio Moricone mi ha fatto in faccia, plin 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 plin, prendendomi completamente in giro e sfottendo. Ecco, la risata di Ennio Moricone sul podio che si è girato verso di me, verso la cabina di regia e ha sorriso, come per dire, ti ho fregato, ti ho sfottuto, questo sorriso allegro e ironico, mi piace ricordarlo come fosse un istantaneo, un'incordatura. Ciao Ennio, dovunque tu sia, buona musica. Grazie. Grazie.